Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come ottenere video per i nostri Cash Cow Channel in due secondi, semplicemente andando a prendere dei video stranieri, estrapolando il testo, dando la ciao GPT. Lo traduciamo, lo mandiamo in passo ai nostri tool che conosciamo molto bene, fra ichi.ai oppure lumen5. Dal testo otteniamo video con immagini, musica, sottotitoli e voce narrante per i nostri Cash Cow Channel. E con questa strategia, con questa estensione che ci permette di estrapolare il testo dai video, possiamo andare a prendere qualsiasi video da qualsiasi canale straniero e aprire un Cash Cow Channel italiano con contenuti pronti, magari fatti dall'altra parte del mondo, che in Italia possono ottenere gli stessi risultati. Mi sembra una grande idea, ok? Adesso vi faccio vedere come realizzarla, che estensione vi serve. Ovviamente per chi non mi conosce, sono Michele Maraglino, faccio business online dalla fine del 2016, in questo canale YouTube condivido le mie esperienze al lato business e in questo canale YouTube quello che vi piace tanto sono i Cash Cow Channel, cioè anche il modello di business migliore, uno tra i migliori, cioè io metto con l'avvento di ChatGPT ci metto Amazon KDP e Cash Cow Channel e YouTube, perché veramente sono business che può iniziare a costo zero con ChatGPT 3.5, realizzare video, ho fatto anche un corso completo ragazzi su Cash Cow Channel di un'ora e mezza, ve lo metto qui nelle schede, c'è la playlist corsi completi gratis, iscrivetevi a questo canale perché c'è un sacco di materiale gratuito, io non vendo corsi al momento, è pazzesco, solo le consulenze, quindi condivido liberamente tutto quello che ho imparato dalla fine del 2016, io mi sono messo dalla fine del 2016 a vendere infoprodotti, a vendere videocorsi, consulenze ai musicisti perché vengo dalla musica, un canale YouTube che si chiama Michele Maradino Musica anche, dove lavoro dalla fine del 2016 e vendo i miei prodotti, quindi ho imparato come vendere su YouTube, come creare video, come vendere infoprodotti, come creare infoprodotti, marketing online, poi mi sono appassionato agli investimenti e tutto quello che ho imparato dal lato business e soldi lo condivido qui gratuitamente, iscriviti perché veramente non c'è niente di tutto ciò là fuori, c'è gente che apre canali YouTube, parla di business senza fare business, senza facere, sono abbastanza fuso, iscriviti subito al canale per aiutarmi, faccio un sacco di video ogni giorno, quindi aiutami, sostienimi, iscriviti se non sei iscritto, c'è gente che apre canali YouTube sul business e non fa business, il suo unico business proviene da YouTube, cioè dal fatto che lui parla di business che non ha mai fatto, è pazzesco, a sto punto apri un cash cow channel e quindi iscriviti al mio canale, anche tu che stai truffando la gente su YouTube, quindi qui hai una persona disinteressata e ce ne sono veramente poche online su YouTube, persona completamente disinteressata che ha aperto questo canale YouTube per condividere la propria passione, una delle proprie passioni perché nel canale musicale purtroppo musicisti e arte si parla di tutt'altro e a me però piacciono anche i soldi, piace anche l'imprenditoria, quindi l'ho aperto proprio per sfogarmi e quindi è tutto gratis, iscriviti, non ti chiedo nient'altro però dovresti proprio ribilanciare l'universo iscrivendoti. Allora andiamo a vedere, ti sei iscritto, hai commentato, scrivi Miki adesso l'universo è con te, vi ringrazio, voi mi commentate sempre, questo mi aiuta, stiamo crescendo molto velocemente, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti entro il mio compleanno che è il 6 luglio, fatemi questo regalo, iscrivetevi e commentate, commentate, Miki ho riequilibrato l'universo, grazie. Commentate, andiamo, allora vi faccio vedere, dobbiamo andare sullo store di Chrome, io utilizzo Chrome, credo che ci sia anche su Mozilla o qualsiasi altro, sì exchange stavo dicendo, qualsiasi altro tool che utilizzate, software per navigare su internet, comunque Chrome è il più diffuso, basta andare sullo store e cercare questo, YouTube article summary powered by CGPT, ok? E installarlo, mi basta cercare questa estensione, l'ha installata, ok? Ora io l'ho già installata, quindi mi esce rimuovì da Google Chrome, andare su YouTube, per esempio io qui ho scritto Make Money Video, perché diciamo che la nicchia business è quella, soldi è quella che è più pagata, quindi vogliamo aprire un Cash Cow Channel praticamente sui soldi, guardate qui, io scrivo Make Money, abbiamo una marea di video, 845 dollari al giorno usando Google Translate, con il tuo telefono, dal tuo telefono, faccio 119 mila dollari, guardate quanti video ci sono, adesso vi faccio vedere, per esempio apriamo questo, vedete, ovviamente dovete avere l'estensione attiva, eccola qua, se non ce l'avete vi basta andare sul puzzle e poi fare gestisci estensione e qui vedete, ora la tolgo, ora c'è, quindi la attivate da qui, poi magari aggiornate, ok? E in due secondi due, a parte la pubblicità ovviamente benedetta pubblicità, ok? Qui clicchiamo, ci trascrive tutto, ok? Possiamo addirittura aprirlo su ChatGPT direttamente, cliccando qui e praticamente ci offre, ci fa un sommario di tutto, altrimenti lo copiamo, ok? Andiamo su ChatGPT, su OpenAI, ok? Il 3.5 è quello che mi serve, clicchiamo traduci, scriviamo traduci in italiano questo testo, due punti, concolliamo il testo e il gioco è fatto, io mi sento male, 845 euro al giorno utilizzando Google Traseta, il tuo telefono gratis, guadagnare online nel 2023, c'è già il titolo, ovviamente cambiate un po' il titolo, però potete farlo anche uguale, secondo me non è un problema, e qua c'è tutto il testo, poi prendete il testo e lo andate a dare in pasta ad un tool, o Lumen5, o Flykey.ai sono quelli che utilizzo io, ora non è questa la sede, in questo video volevo farvi solo vedere questo tool, io non credo lui l'abbia, se si blocca scrivete continua, non credo l'abbia tradotto tutto, adesso continuerà, spero, esatto, volevo solo farvi vedere appunto questa funzione, farvi capire come poter trovare una marea di video in pochi secondi e pubblicare una marea di video, perché poi prendi questo testo e lo dai a questi tool, se non avete mai visto come si fa, c'è il mio corso, ve lo metto qui nelle schede, ma lo trovate anche in home page, nella playlist corsi completi gratis, c'è proprio il corso da zero a Cash Cow Channel, ok? Vi spiego tutto come partire e vi metto il video qui. Con questo praticamente sistema noi possiamo avere, abbiamo una marea di video che possiamo realizzare in due secondi, ok? Invece di praticamente inventarci noi il video, ok? Potremmo prendere dei video, perché una volta che tu hai fatto la ricerca, ti escono i risultati migliori, che hanno performato meglio, ti escono i video meglio arrancati, ok? E quindi che cosa vai a fare? Prendi un argomento che è già potenzialmente interessante, perché già in qualche altro paese è andato forte, quindi anche in Italia, e tu lo puoi ripubblicare, puoi creare un Cash Cow Channel in italiano, ok? Cash Cow in italiano, e hai su qualsiasi argomento, su qualsiasi nicchia, e hai la possibilità, guardate qui, di avere video già pronti, devi soltanto tradurli con questa estensione, ve la faccio rivedere, la installate sullo store, e mi sembra una bomba, cioè possiamo avere un sacco di contenuti per i nostri Cash Cow. Allora, fatemi sapere se questa estensione la conoscevate, o se praticamente vi ha intreffato, se questo video vi ha ispirato, vi ha fatto scoprire questa cosa che, diciamo, secondo me dare una svolta al vostro Cash Cow e alla vostra produttività, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e quant'altro, ragazzi. Poi se volete poi il corso pratico, passo passo, proprio vi faccio vedere come creare poi il video, come poi dà il testo, ok? Come far diventare questo testo poi un video realmente, attraverso dei tool in automatico, ci mettete altri solo cinque minuti, gli date il testo, fai crea video, ti dà il video con già tutte le immagini pronte, guardatevi il mio corso che vi metto qui nelle schede, lo trovate anche nella playlist che trovate in home page, che si chiama Corsi Completi Gratis, come guadagnare online da zero. Il video è il corso completo sul Cash Cow Channel, si chiama da zero a Cash Cow Channel, una cosa del genere. Lo trovate comunque nelle schede, fatemi sapere nei commenti e se questo video vi è piaciuto iscrivetevi e commentate, commentate, commentate. Ragazzi, un altro video clamoroso, dopo quel video che vi ho fatto, che praticamente noi possiamo tradurre dei video stranieri, prendere il testo con un tool e poi lo dai a CiaGPT, CiaGPT te lo traduci in italiano, poi lo dai, che ne so, in pasto a quei tool di intelligenza artificiale che dal testo ti tirano fuori un video con immagini, sottotitoli e voce e quindi puoi fare Cash Cow Channel in poco tempo, puoi avere un sacco di video e andare a guadagnare con la monetizzazione di YouTube. Se non sai nulla di queste cose che sto dicendo ma ti interessa guadagnare online, ti devi iscrivere a questo canale, è questo il canale YouTube che tu devi seguire dove puoi imparare a costo zero, c'è la playlist corsi gratis, imbarazzante, c'è un corso di un'ora e mezza sui Cash Cow Channel, vattene a vedere, vattene a vedere i video vecchi, iscriviti. Il mio cervello continuava a girare e dire ma io, scusatemi bene, posso prendere dei video stranieri, tradurli e poi magari modificare, ovviamente c'è un po' di lavoro da fare, ma potenzialmente ho anche dei libri che posso pubblicare su Amazon, ok? È pazzesco! Adesso vi faccio vedere come possiamo prendere dei video, trasformarli in libri e venderli su Amazon, tramite Amazon KDP, no? Il Kindle Publishing, io ho fatto un corso, sempre lo trovate nella playlist video corsi completi gratis, non page a questo canale, un corso di un'ora sul Kindle Publishing, come scrivere un libro anche con l'intelligenza artificiale, come pubblicarlo, come venderlo. Io ho pubblicato un libro per fare quel corso, ho pubblicato un libro, quindi vi faccio vedere le cose, ve le insegno mentre io le faccio. Infatti è un corso pazzesco, è il video più visto del canale, vattelo a vedere, lo trovi anche tra i video popolari, iscriviti a questo canale perché oggi vedremo un altro contenuto grandissimo e commenta se questi video ti piacciono, iscriviti subito e commenta, commentate tanti perché ragazzi dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti entro il 6 luglio, mi sono accorto che il 6 luglio è veramente vicino, il 6 luglio è il mio compleanno, stiamo crescendo forte ma commentate, c'è bisogno di voi, ho visto che il 50% delle persone che guardano il mio video non sono iscritte al canale, se vi iscriveste arriveremmo subito a questi 10.000. Fatelo, se non sei iscritto e mi guardi, iscriviti adesso, fammi questo regalo. Oggi vediamo un contenuto bomba, 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 scrivete nei commenti Mickey Bomba, Mickey Bomba, Mickey Bomba, scrivetelo tutti ragazzi, io vi ringrazio, mi ascoltate sempre e infatti ultimamente abbiamo avuto un altro boost nelle iscrizioni, continuiamo così, commentate qualsiasi cosa, se vi sono stato utile per tutto il valore gratuito che do, andatevi a vedere tutti i corsi, ho fatto la playlist aggiornata a corsi completi gratis come guadagnare online da zero, è veramente roba che la gente si fa pagare, qui io la regalo. Se non mi conosci velocemente perché regalo tutto questo? Perché ho un business online dove lavoro, ho un canale YouTube più grande di questo dove lavoro nella mia nicchia, la nicchia mia è la musica, non è neanche il business online come quelli che fanno business online insegnando il business online ma il loro guadagno proviene dal canale YouTube che parla di business online ma il loro business online non l'hanno mai fatto a parte YouTube, no, io vengo dal mondo del business online, ho una nicchia che è la musica, al di fuori una qualsiasi nicchia, ecco perché la gente è titubante ma funziona in qualsiasi nicchia, non soltanto nel make money, ragazzi, dovete prendere un canale YouTube sulle vostre competenze, creare i vostri prodotti e i vostri servizi e quello che insegno è la cosa più importante, se volete lavorare online in modo serio, poi sì potete, io stesso ho anche dei libri che pubblico che ogni mese mi arrivano soldi passivamente da Amazon, ho i miei cash cow channel ma gli fai dopo, la parte più importante del guadagno mi arriva da il mio business online, ho i miei videocorsi, le mie consulenze, ho un canale YouTube Michele Maradino Musica dove vendo tutto questo e nel marzo del 2022 ho praticamente, scusate ma c'era un'immagine su perché io registro col cellulare, tra l'altro, nel marzo del 2022 ho detto voglio aprire un canale YouTube e parlare di soldi perché nella musica non mi fanno parlare di soldi e qui mi sfogo, condivido tutto quello che ho imparato, gratis, pazzasco, iscriviti perché è tutto gratis, non ho ancora fatto nessun corso però lo voglio fare, però intanto è tutto gratis e condivido tutta la mia esperienza dal lato business, poi se vuoi essere seguito da me ci sono le consulenze, l'unica cosa che vendo, in descrizione a questo video trovi la mia mail, mi iscrivi e ci mettiamo d'accordo per una consulenza conoscitiva, poi possono nascere anche collaborazioni, posso anche seguirli da vicino, contattatevi se volete fare sul serio col business online. Detto questo andiamo, allora vi ricordate nel video precedente no? Ne ho parlato, YouTube article summary powered by chat GPT, andate su praticamente lo store Google Chrome, lo store di Chrome, installate l'applicazione, è molto semplice, guardatevi il video precedente, me che qui nelle schede è quello su come tradurre video stranieri e avere video gratis per il cash cow channel, lo trovate anche nelle schede, e vabbè molto semplice, andate su Google Chrome store, scrivete Google Chrome store, su YouTube, no su YouTube, su Google, poi scrivete YouTube article summary chat GPT e vi esce l'estensione, la aggiungete a Chrome e poi dal pazzolino qui, ecco, la potete attivare, basta andare qui, controllate, gestisci estensioni, che sia attiva. Dopodiché, ok, chiudiamo, dopodiché, faccio sempre l'esempio con make money, ok, cerchiamo un video che sia lungo, il più lungo, il più lungo possibile, ok, quindi potete scegliere una nicchia, che nicchia volete, e fate la ricerca in inglese, quindi trovate un video, avevo trovato questo video da 29 minuti, dove, 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 eccolo qua, come fare 119.000 dollari, un business facile di intelligenza artificiale per guadagnare soldi online, lui mi piace, ci clicco con l'estensione attivata e così praticamente abbiamo qui l'applicazione, ci clicchiamo e lui ci dà tutto il testo, ok, lo praticamente, la super pubblicità che ci fa vivere, copiamo, ok, il testo, andiamo su CiaGPT e scriviamo la solita cosa, traduci in italiano questo testo, ok, facciamo invia e abbiamo il nostro, praticamente, libro, perché molto spesso voi mi chiedete, ok, cioè questa roba risolve un grande problema, no, risolve il problema di come praticamente scrivere un libro, così vi velocizzate, perché io l'ho fatto anche la masterclass, vi metto il video nelle schede, come scrivere un libro con CiaGPT3 e CiaGPT4, però lì devi far fare l'indice, poi ogni, soprattutto se usate quello gratuito, poi i capitoli li fa brevi, quindi ti devi un attimo sbattere con questo sistema, hai già il libro pronto, hai già il libro pronto, in due secondi lo devi solo impaginare e lo puoi vendere, poi se vuoi sapere come si fa, ecco perché è bello questo canale YouTube, perché c'è tutto, vuoi sapere come si fa? Caricarlo su Amazon, adesso ti faccio vedere un po', però c'è il corso completo, vatelo a vedere nella home page, te lo metto anche qui in descrizione, però nell'home page c'è proprio la playlist video corsi completi gratis, come guadagnare online da zero. Quando si blocca, schiaccia continua, ok, e il gioco è fatto, sto usando CiaGPT3.5 che è gratuito, e questo è il nostro praticamente testo del libro, dopodiché vai su Amazon, se vai su Google e scrivi Amazon KDP modelli, libri, ti esce appunto questa pagina, questo sarà il primo risultato, modelli di libro cartaceo, scarichi i modelli vuoti e poi ti prendi, io uso il più piccolo, il 5x8, ed è pronto per l'impaginazione, possiamo prendere il testo, lo incolliamo, il testo che lui ha tradotto, ok, ora non so se si è bloccato, comunque va bene, questo è tutto il testo? questo, eh no, traduci in italiano questo testo, non mi sembra che l'ha tradotto tutto, clicca, rifacciamo, ah vedi, se clicco rigenerate, mi fa continuo, allora, no, rifacciamo, due di due, mi dispiace ma non posso tradurre il testo che hai fornito perché contiene informazioni, promuovono un metodo di guadagno online che potrebbe essere ingannevole o non affidabile come modello di linguaggio, non posso supportare la promozione di tali contenuti, se hai altri da paura, quindi occhio a ovviamente quello che traducete, ok, dipende, comunque vi ho fatto l'esempio, proviamone un altro, ovviamente cercate di prendere video che abbiano valore, questo è quello dell'altra volta, oh, qui c'è un mio video, qui ci sono altri creator italiani, vediamo, vediamo, ah, vedi, questo 200 dollari al giorno con Google Map, clicchiamo qui, ci fa la trascrizione immediata, lo copiamo, ok, andiamo in una nuova chat, traduci, in italiano, questo testo, allora chiudiamo YouTube e tutte le pubblicità che ci danno da vivere, traduci in italiano questo testo, due punti, vediamo un po' che cosa ci esce, comunque molto semplicemente, dopo che ti sei scaricato il modello, magari ecco che cosa potete fare, in questo caso faccio l'esempio del make money, potete scrivere un libro, 10 metodi per guadagnare online, prendete 10 video, anche più brevi, e traducete, anzi è più semplice da fare, perché comunque sono video più, cioè questa idea è una bomba, cioè io pure 10, non lo so, qualsiasi nicchia cercate, magari unite più video e create un libro, 10 metodi per giocare meglio a calcio, non lo so, 10 metodi per guadagnare online, 10 modi per utilizzare l'intelligenza artificiale, posso scrivere, continua a generare, e quindi unite praticamente tutto, unite più video, ok? Poi ovviamente dovete impaginare, anche qui, ok, forse ho scelto dei video un po' spinti, soprattutto all'estero sono spinti, però ok, dopodiché prendete il testo, ve lo faccio vedere, comunque l'intelligenza artificiale è diventata veramente, veramente intelligente, nel senso che riesce a capire anche la qualità di ciò che è scritto. Ovviamente qua copiate, vedete vi si aprono tutte le pagine, magari impaginate, abbassate un po', qua fate, mettete il titolo, 10 metodi reali per guadagnare online, ragazzi è solo un esempio, poi declinatelo nella nicchia e nell'argomento che volete, già che ci sono parlo di guadagno online, ok, quindi per restare in tema uso questo, unite più video e dopodiché caricate su Amazon KDP, vi dovete fare semplicemente un account e il gioco è fatto, se volete sapere poi come si fa, c'è il mio corso completo su come pubblicare un libro, su KDP c'è anche il mio corso praticamente su come scrivere con CiaGPT, però prendere più video, tradurli, ok, unire più video stranieri, ecco anche questo per... e tradurli, farli tradurre, quindi prendiamo il testo con quel tool, con quell'app, lo facciamo tradurre, li uniamo, magari uniamo più video e creiamo dei libri che possiamo vendere anche a pochi euro, ma che nel tempo ci possono portare guadagni praticamente importanti. Andatevi a vedere anche il mio video su come pratica... c'è tutto in questo canale YouTube, c'è anche il video su come ottenere vendite, quindi come fare la descrizione, lo trovate anche nella masterclass di come scrivere un libro eccezionale con l'intelligenza artificiale, trovate tutto, non vi resta che iscrivervi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo metodo e se questo video vi è ispirato scrivete bombamiki, bombamiki, aiutatevi, commentate in tanti, fatemi sapere e vi chiedo solo questo, iscrivetevi e perché qua è tutto gratis, quindi scrivi micibombamiki, bomba, ti sei superato quello che vuoi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!